Ciao e benvenuto in AI for Business. Con questa newsletter ti manderò ogni settimana tantissime informazioni utili, tantissimi contenuti per iniziare a capire come davvero questa tecnologia sta trasformando il modo in cui le persone stanno facendo business. Ci sono tantissime cose che puoi veramente scoprire ed imparare per ottimizzare i tuoi processi e in questo video voglio farti scoprire come ChatGPT può veramente trasformare il tuo modo di lavorare dando ti uno strumento incredibilmente utile per tantissimi scopi. Vieni con me sul mio computer, allaccia le cinture perché partiamo per un viaggio incredibile alla scoperta di uno dei più rivoluzionari strumenti a disposizione se vuoi veramente rendere più efficace il tuo business. Ok, siamo dentro una nuova tab di Google Chrome e adesso andremo alla scoperta di ChatGPT. Allora, quello che possiamo fare è digitare chatGPT.openai.com Quello che andremo a trovare è il sito di OpenAI con chiaramente il redirect anche sul sito italiano. Clicchiamo su ChatGPT e questa è l'interfaccia. Chiaramente se non hai mai utilizzato questo tipo di tecnologia la prima cosa che fai è registrarti. Puoi registrarti in modo gratuito utilizzando un account di Google, un account di Microsoft, un account di Apple oppure la tua mail. In questo caso chiaramente io farò un accedi perché ho già creato il mio account con una delle mie mail di test. Clico un account di Google. Avanti. Password. E siamo dentro. A questo punto questa è l'interfaccia di ChatGPT che ci permette di subito iniziare a chiacchierare con la nostra intelligenza artificiale. Questi sono dei primi suggerimenti che ci dà ChatGPT con cui magari divertirci, provare a giocare. Qua puoi vedere quale tipo di account hai. Chiaramente l'account, questo è quello gratuito, l'account plus ti permette di avere più risorse, ti permette di creare GPT, ti permette di fare un sacco di altre cose. Con questo tastino vai a creare un nuovo chat e questa è la balla laterale che ti fa vedere le precedenti conversazioni, le ricordi praticamente tutte. Questa è per aprire una nuova conversazione con ChatGPT e questa è per esprimare GPT's. GPT's sono delle versioni personalizzate di ChatGPT per fare degli scopi specifici. Ma iniziamo subito a vedere come funziona. Banalmente dobbiamo riferirci a ChatGPT chiedendogli di aiutarci come se fosse un assistente. A cui possiamo chiedere veramente questa informazione. Essendo che utilizza la versione GPT 4 o Omnia, che è l'ultima versione di ChatGPT, sarà possibile anche caricare dei documenti da computer per fargli analizzare. Si potrà collegare a Google Drive o OneDrive se hai file su questi spazi cloud e potrai caricare direttamente i file da lì oppure dal tuo computer. Ma iniziamo subito. Ciao. Chiaramente possiamo interfacciarci come se fosse appunto una persona con cui chiacchierare e per cui possiamo chiedergli qualsiasi tipo di informazioni. Quale è la votazione dell'oro oggi? Chiaramente GPT 4 o Omnia può andare su internet e ti troverà tutte le informazioni richieste. In questo caso, come vedi, ci dà chiaramente la contestualizzazione a data di oggi, 8 luglio 2024, ci dà il prezzo. Ci dice anche il link da cui ha preso questo riferimento. Quindi possiamo utilizzare il chatGPT all'anno base per qualsiasi tipo di informazioni. Vorrei avere le informazioni sul museo di Parigi. Quali mostre ci sono e quali sono gli orari? Chiaramente queste sono curiosità, cose che stiamo chiedendo solo per mettere alla prova chatGPT per vedere se ci risponde bene e se ci può essere utile. Chiaramente sto cercando di farti capire che puoi chiedere veramente qualsiasi tipo di informazione e chatGPT potrà aiutarti a rispondere a questa domanda. Ok? Ora, chiaramente questo è il livello base, proprio come poter chiedere qualsiasi cosa a chatGPT per ottenere delle risposte. È un po' come se vai su Google e invece di avere la risposta proposta da Google come una lista dei risultati in cui ci sono quelle parole chiave, chatGPT ti dà già la risposta. Possiamo chiedergli anche di farci un indovinello. Fammi un indovinello. Per dire, ecco qua. Sono più grande della luna, più piccolo di un seme sono invisibile, eppure tutto il mondo mi può vedere. Che cosa sono? Sono più grande della luna, più piccola di un seme sono invisibile, eppure tutto il mondo mi può vedere. Boh? Non saprei. Più grande della luna, più piccola di un seme. Non saprei. Ecco la risposta. Sono un pensiero. I pensieri sono invisibili, ma possono essere grandi come un universo o piccoli come un seme. Anche se non possono essere visti fisicamente, tutto il mondo lo possono averli e vederli nella propria mente. Ok? Diciamo che anche gli indovinelli ti può chiedere. Ma iniziamo a vedere qualche caso d'uso interessante se vuoi utilizzare Searchpt per il tuo business. Innanzitutto possiamo utilizzare Searchpt per fare ricerca di informazioni. Ovvero mettiamo che noi siamo una società che vende ghiaccioli vegani e vogliamo fare a Searchpt un'analisi di mercato. Quindi fammi un'analisi di mercato per il mio business. Vendo ghiaccioli per vegani. Chiaramente in questo caso Searchpt ci farà una breve analisi di mercato in cui va ad analizzare alcune informazioni. Per esempio qua parla della crescita, la domanda crescente, la segmentazione, tutte le informazioni, marchi noti, produttori locali, tendenze. Questi possono essere chiaramente informazioni molto utili nel caso in cui noi, per esempio, vogliamo creare un nuovo prodotto, vogliamo aprire un nuovo business, un nuovo mercato. Può essere utile appunto anche per avere informazioni a livello di marketing, possiamo fargli fare qualsiasi tipo di analisi. Ora, la cosa veramente importante è che Searchpt si ricorda le nostre informazioni, per cui adesso noi possiamo continuare questa conversazione senza dovergli dire di nuovo, per esempio, quello di cui ci occupiamo. Ok, se volessi avere dei suggerimenti per un brand per la mia attività. Quindi adesso chiediamo a Searchpt di creare per noi dei suggerimenti per il brand legato appunto all'attività di vendita di ghiaccioli per vegani. Quindi vediamo la risposta. Come vedi, si ricorda che appunto noi vendiamo ghiaccioli vegani e quindi ci dà tutta una serie di informazioni. Ci dà già il nome del brand, il logo, lo slogan, l'immagine, il posizionamento, la strategia di marketing. Quindi diciamo può essere utile per avere un punto di partenza, per lavorare su un qualsiasi progetto. Ecco alcuni esempi e nomi slogan. Green Freeze, Nature Pops, Eco Frost. Nature Pops mi piace molto, quindi Nature Pops potrebbe essere il nome del nostro brand. Ghiaccioli naturali, gusto puro. Mi piace anche questa idea. Quindi possiamo chiedere, creami una brand identity per la mia attività che si chiamerà Nature Pops. A questo punto inizia a generarci tutto quello che ci può essere utile per creare la brand identity del nostro brand. Mission, vision, valori del brand, identità visiva, colori, esempio di logo. Tone of voice, slogan, strategia di marketing. Come vedi abbiamo veramente tantissime informazioni da cui partire. Chiaramente questo non è uno strumento che va a sostituire il lavoro del grafico, ma lo va a potenziare. Non è un lavoro che va a sostituire nella progettazione del marketing, ma lo va a potenziare. Quindi in questo caso, per esempio, abbiamo detto che ci piace Nature Pops, possiamo anche chiedere a Ciaccipti di generare un'immagine per il nostro logo. Genera un'immagine per il nostro logo. Lui prende le informazioni che noi abbiamo inserito, le informazioni che le abbiamo fatto sviluppare e ci creerà un logo. Ora, questo è già il livello 2. Ok, chiaramente, come vedi, senza dargli le giuste informazioni, il risultato non è un risultato professionale. Ovvero, quello che fa Ciaccipti utilizzato in questo modo, che appunto è livello 1, sarà un risultato che magari è generico. Un risultato che magari appunto può essere un punto di partenza, ma non è il risultato finale. Per sbloccare i superpoteri di Ciaccipti, chiaramente, bisogna fare le giuste domande, bisogna creare il giusto prompt e soprattutto bisogna saper costruire una conversazione che porti Ciaccipti a risponderci utilizzando delle competenze più specifiche e quindi, diciamo, più adatte appunto a realizzare quello che noi vogliamo. Guarda, se cambio solamente il prompt, quindi la frase che, la richiesta con cui gli vado a chiedere di generare il nostro logo, come veramente il risultato sarà completamente diverso ad un livello incredibilmente superiore. Generami l'immagine del logo come se fossi un grafico esperto in marketing online. In questo caso, quello che andiamo a fare è dare una istruzione più dettagliata a Ciaccipti e andiamo a fare il role playing, ovvero gli diciamo di agire come se fosse un grafico esperto in marketing online. E vedrai che adesso il logo che andrà a generare sarà molto più interessante di quello che ci ha proposto prima. Sta scrivendo il codice che ci genera l'immagine. In questo caso non possiamo proseguire perché praticamente abbiamo già utilizzato tutta la disponibilità che c'è per l'account gratuito di GPT4 Omnia. Il limite, vedi, sarà rimpostato domani alle 3.20. Quindi chiaramente con l'account base di Ciaccipti gratuito hai un limite alle interazioni che puoi ottenere. Se vuoi ottenere più risultati, quello che puoi fare è passare a GPT3.5 che è la versione precedente, che però non avrà tutta una serie di funzionalità a disposizione come quella di navigare su internet, creare immagini e chiaramente tutta una serie di funzionalità evolute. Ora, in questo caso, quello che posso farti vedere è questo. Dalla barra, quindi lasciamo per ora in sospeso la generazione del nostro logo, però come vedi insomma ci ha dato diversi risultati molto interessanti che possiamo studiare, possiamo iniziare ad utilizzare. E andiamo un secondo ad esplorare i GPT's. GPT's sono appunto delle versioni personalizzate di Ciaccipti che ci permettono di fare dei compiti specifici. In particolare, questo è il GPT Store e qui puoi già trovare tutti i migliori GPT's divisi per categoria. In particolare, qua c'hai quelli in evidenza, hai quelli più popolari e poi ce l'hai divisi per categorie. Writing saranno GPT's specializzati come strumenti di creazione e editing di testi. Write for me ci permette di scrivere dei contenuti engaging, quindi accattivanti, con un focus sulla qualità e la precisione nel numero delle parole. I Humanizer, invece, è un GPT's che trasforma i testi e li rende praticamente umani, quindi come se fossero scritti da un essere umano e non da Ciaccipti. E questo può essere utile per quei sistemi in cui devi fare un controllo rispetto al fatto se un test sta scritto da intelligenza artificiale oppure no. Chiaramente, su Visualize altri GPT ti farà vedere gli altri GPT's di questa categoria. Poi c'è la categoria Productivity per migliorare la propria efficienza e qua trovi tantissimi tool utilissimi, da quello di Canva che ti permette di creare design, a quello di Image Editor Pro, video GPT by Vid per creare video per i social media, per quello per analizzare PDF. Veramente ci sono GPT's per ogni tipo di interesse. Ricerca e analisi, questi sono specializzati appunto nell'analisi di documenti e ricerca. Education, che sono GPT's specializzati in compiti legati all'apprendimento, quindi all'educazione, per problemi matematici, per tutor, per imparare qualsiasi tipo di argomento. Tutor per imparare le lingue, Miss Smith. E poi chiaramente ci sono GPT's per il Lifestyle, con argomenti dal Travel Guide e la guida di viaggio, ai giochi, al fitness, a quello che fa le canzoni, veramente ci sono infiniti. E poi l'ultima parte è quella legata alla programmazione. Vediamo altri GPT's della parte Lifestyle, che magari possono essere interessanti. Per esempio, questo qua è un GPT's esperto di destinazioni di viaggi, organizzazione di viaggi, budgeting. Quando tu sei interessato a un GPT's, puoi vedere, cliccandoci sopra, le informazioni principali, le recensioni, la posizione, il numero di conversazioni, questi sono dei spunti di conversazione con cui tu puoi partire direttamente a chiacchierare con questo bot, con questo assistente, le valutazioni, e poi chiaramente avviando la chat inizierai una nuova conversazione dove qua hai il nome del GPT's Travel Guide. Queste sono le varie impostazioni. Qui hai una breve descrizione, le aree di accesso veloce, appunto, a determinati temi proposti da Travel Guide, e qua puoi iniziare a chiacchierare. In questo caso, chiaramente, ci dice che abbiamo raggiunto il limite di utilizzo dei GPT's, perché appunto abbiamo utilizzato i GPT's, utilizzano il modello GPT-4 Omnia, che abbiamo inserito il nostro tempo a disposizione, e dobbiamo riprovare domani dopo le 3.20. Quindi, diciamo, abbiamo uno stop di circa 5 ore, oppure possiamo passare a Plus per avere tutto quanto illimitato. Ora ti faccio brevemente vedere come può funzionare invece ChatGPT in modalità Plus, perché veramente in questo modo puoi sbloccare appieno tutto il potere di ChatGPT. Quindi, siamo appunto nel mio account Plus, come vedi qua, posso scegliere i vari modelli, e qui posso veramente chiedere qualsiasi cosa a ChatGPT. Potrò veramente lavorare senza preoccupazione di finire i token a mia disposizione prima del refresh, perché veramente con l'account Plus praticamente non hai limite a quello che puoi chiedergli. Vorrei solo farti vedere un'ultima cosa che può essere utile. Possiamo chiedere a ChatGPT di analizzare il sito internet di un nostro competitor e magari farci dare delle informazioni. Analizza il sito internet di questa azienda competitor per darmi delle informazioni utili per migliorare il mio posizionamento. Ecco, possiamo vedere qua se troviamo ghiaccioli vegani. Vediamo qua ghiaccioli vegani. Ok, questa azienda vende biologico senza glutine cose vegani. Possiamo chiedere questo e diciamo poi il mio brand. Si chiama Natural Pops e vendiamo ghiaccioli per vegani. Lanciamo. Lui in questo caso andrà sul sito del nostro competitor ecopottega.it, ci darà un'analisi del sito e ci darà poi appunto quello che gli abbiamo chiesto, quindi delle informazioni per migliorare il posizionamento del nostro brand rispetto a questo competitor. Veramente gli utilizzi possono essere incredibili e semplicemente andando a giocarci puoi capire sempre più come fare le richieste nel modo giusto per ottenere il risultato perfetto per le tue necessità e chiaramente essere più produttivo, più efficace, più efficiente in tutta una serie di operazioni che puoi fare grazie all'intelligenza artificiale. Naturalmente, se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di andare sul nostro sito levelup.agency, provare a chiedere a Mr. Level Up come implementare l'intelligenza artificiale nel tuo business. Facciamo un esempio in questo caso Vento Ghia Scioli per Begani il mio brand si chiama Natur Mr. Level Up ti darà una serie di input su come puoi utilizzare l'intelligenza artificiale per lavorare in modo più efficace, più veloce in questo caso, vedi, ti propone utilizzi come analisi predittiva delle vendite automazione del marketing, gestione dell'inventario chatbot per assistenza clienti analisi del sentimenti dei clienti sono tutte cose che veramente l'intelligenza artificiale può aiutare a farti fare in modo veloce e soprattutto può farti fare quel salto di livello e noi vogliamo proprio accompagnarti in questo quindi puoi produttare la tua consulenza strategica gratuita con me e vedremo insieme appunto come puoi implementare l'intelligenza artificiale all'interno del tuo business è molto semplice scegli l'orario che preferisci inserisci i tuoi dati e prenoti il tuo appuntamento con me gratuito ci vediamo dall'altra parte grazie grazie grazie